Il terzo tentativo è quello giusto per una Tessa che così centra la prima vittoria interna in campionato. Ne fa le spese il Luco che cade dopo quattro turni di imbattibilità. In una gara condizionata da una lunga lista di assenti, tra gli altri citiamo Cianci e Marzoli tra i locali, Carnevale e i due venditti tra gli ospiti, a partire con il piede giusto sono i Biancazzurri di Cerone che ritrovano Luca di Genova e sono vogliosi di confermare il secondo posto e le ottime recenti prestazioni. Al sesto la Barba esce sui piedi di Allouche. La Tessa inizia decisamente guardinga e si affida alle ripartenze dello scatenato Soria che al sedicesimo concludi il suo affondo colpendo la parte esterna del palo. Diciottesimo tenta comoda la distanza ma trova una deviazione in corner. Replica Tessana col solito Soria al venticinquesimo, destro radente, palla a fil di palo. Ma è il minuto 33, quello in cui la gara subisce la sua svolta. L'assistente Barbetta segnala al direttore di gala d'Avornia la presa fuori area di Lisciani. Dal limite è precisa l'esecuzione di Gaetano Tonti che sfrutta l'errato piazzamento della barriera e segna la sua seconda punizione consecutiva. Da questo momento il luco si scioglie. La Tessa sale in cattedra e chiude in crescendo la prima frazione sfiorando il 2-0 con la zuccata di Carafa. Raddoppio che giunge in avvio di ripresa quando Soria sfrutta l'assist di Mainella coronando nel migliore dei modi la sua gran prestazione. La squadra di Giandanotto potrebbe anche dilagare. Sesto serpentina di Tonti, cross per Mainella, palla di poco a lato. Dopo due minuti la fortuna volta ancora le spalle al centroavanti che spedisce sul palo l'assist di Soria. La partita a questo punto si assesta sul doppio vantaggio tessano. Il luco non riesce a far gioco ma al 32esimo dopo la classica girandola di cambi i ragazzi di Cerone trovano l'episodio per riaccendere la contesa quando Sant'Agnello stende in area il neo entrato Onorio Gizzi. Dal dischetto Luca di Genova spiazza la barba. La Tessa si difende con ordine ma rischia grosso in pieno recupero quando Chiarilli e Danese preparano la strada per la conclusione a colpo sicuro di Luca di Genova che però da buona posizione alza la mira. Il meritato 2-1 lancia così in orbita la squadra chietina che con questo Soria può aspirare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Per il Luca un semplice incidente di percorso dettato da un calo di tensione che per una squadra così giovane ci può stare.